salve a tutti cari amici coronavirus money 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 da tutte le parti questa è solo l'anteprima money 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 da tutte le parti come è successo dopo gli attentati delle torri gemelle come avevo detto io nei miei primi video di un mese fa che sarebbe successo la stessa identica cosa allora cari amici io sono ricercatore emiliano babilonia ho studiato gli avvenimenti quando c'è stato l'attentato delle torri gemelle e tutto quello che è successo dopo le torri gemelle io ho fatto dei video all'inizio della epidemia del coronavirus e ho detto c'è qualcosa di strano questi stanno effettuando una strategia a livello mondiale perché la cosa strana che determinati soccorsi determinati restrizioni e determinati avvenimenti che accadevano in determinati luoghi opposti lavorativi non erano proprio quello che veniva detto in televisione io ho un amico che lavora all'aeroporto di roma e mi ha detto che praticamente non gli facevano mettere le mascherine perché se no potevano creare una sorta di panico verso le persone che arrivavano praticamente all'aeroporto invece qualcuno ha detto dice noi abbiamo preso tutte le precauzioni possibili immaginabili e invece sembra come se qualcuno voleva rallentare determinate precauzioni per far ammalare molte persone nel territorio nazionale italiano e far infettare molte persone nel territorio nazionale italiano per arrivare praticamente a questo crisi nazionale crisi economica ma arrivano miracolosamente la bellezza di 800 miliardi prima non avevano 5 miliardi 10 miliardi 25 miliardi oddio dove andiamo a prendere questi soldi oddio come facciamo a destra e sinistra adesso a direttura si parla di 800 miliardi che se vai in banca ti danno immediatamente un mutuo e ti danno immediatamente il prestito pensate che ho un amico che è andato in banca per chiedere un mutuo della casa ha dovuto mettere in garanzia due case più ci sono ha dovuto mettere altre due buste banche in garanzia per un semplice mutuo di 500 euro al mese invece qui addirittura muti per 800 mila euro muti per 30 40 50 100 mila euro così andate in banca addirittura tassi quasi allo zero sarà vero non sarà vero ma a me mi sembra una cosa troppo semplice troppo facile da dire in televisione andate si risolverà tutto risolveremo tutto non vi preoccupate risolveremo tutto a me mi sembra un po' la bufala come la terremoto all'aquila sono dieci anni dei campieri che stanno andando avanti addirittura noi paghiamo le accise sulla benzina del terremoto in irpinia abbiamo ricostruita dieci volte con i soldi che praticamente hanno preso sull'accise della benzina l'irpinia e in italia adesso si parla di aiuti da tutte le parti è giusto aiutare le famiglie che hanno dei bambini e che stanno in crisi economica che magari prima facevano piccoli lavori santuari per raccimolare la giornata e adesso praticamente non li possono più fare oppure delle persone che magari facevano dei lavori stagionali e adesso sono bloccati non potranno fare più niente però io dico una cosa ma le aziende le società hanno delle assicurazioni queste assicurazioni in caso di calamità naturale in caso di determinati tipi di eventi dovrebbero automaticamente pagare e dare aiuti alle società che fanno queste assicurazioni se io faccio l'assicurazione sul terremoto se c'è il terremoto io rimango fermo perché mi casca la palazzina non è che deve venire lo stato a ripararmi la palazzina io ho l'assicurazione sulla casa per calamità naturali il terremoto fa cascare la casa e l'assicurazione paga la casa che è crollata perché io assicuro la casa le aziende è uguale la stessa elettica cosa le aziende fanno le assicurazioni sull'azienda stessa perché se succede qualcosa nell'azienda c'è un'assicurazione che paga non si riesce a capire perché tutti questi artigiani nessuno che c'è un assicurazione nessuno che c'è un un'assicurazione preventiva privata per la gestione di queste eventualità perché questa è una calamità naturale cioè è un problema che lo stato ha posto a queste persone per bloccare praticamente la loro il loro lavoro cioè non è che si sono alzati gli artigiani o le fabbri o i negozi hanno detto vabbè domani mattina chiudo perché c'è la gente che si potrebbe infettare all'interno del mio negozio no perché i supermercati stanno lavorando e non mi pare che la gente si è infettata dentro i supermercati perché hanno utilizzato un criterio per poter far sì di andare a fare la spesa per poter entrare all'interno dei supermercati con le mascherine con con i guanti allora potevano fare la stessa identica cosa come hanno fatto per le pensioni il lunedì vanno quelli con una lettera da una lettera alla lettera il martedì vanno quelli da una lettera alla lettera mercoledì vanno quelli da una lettera alla lettera avrebbero fatto le stesse identiche cose anche per i cittadini da un giorno a un altro potevano andare determinate persone da un giorno a un altro potevano andare altre determinate persone si sarebbe creato praticamente un sistema che avrebbe dato la possibilità di far lavorare molte aziende aziende ovviamente per cose necessarie certo non è che io faccio aprire un'azienda che mi fai voto un chico da un fioc oppure aziende che magari servono servono solo per determinate altre cose che possono essere fatte in un secondo momento però intanto tenevano aperte determinate società o determinati gruppi lavorativi magari anche società titolo familiare che potevano continuare ugualmente a lavorare anche a porte chiuse e loro potevano svolgere il loro lavoro magari senza gli operai all'interno o potevano risolvere in altri modi adesso che l'italia sta crollando economicamente che poi bisogna vedere il crollo economico che cosa vuol dire perché non è possibile che una nazione blocchi per una settimana per un mese i negozi e la nazione è crollata totalmente non è così ci sono dei salva stati e salva nazioni che prevedono queste eventualità perché allora che succede scoppia una guerra in italia che fa è finita l'italia non c'è stato più soldi c'è più niente crolla tutto quanto no non è così funziona il sistema che hanno dei fondi messi messi in un determinato posto perché se succede qualcosa alla nazione la nazione stessa può aiutare i contribuenti cioè le persone che operano e lavorano i cittadini che stanno all'interno della nazione italiana come il salva stati europeo dei 550 miliardi messo da parte per eventuali situazioni come quella del coronavirus e l'italia ha anche questo sistema e non si riesce a capire come è possibile che nessuno ha parlato di questi fondi che servono per eventualità di questo genere si parla solo di chiedere i soldi all'Europa 500 miliardi 550 miliardi e giustamente l'Europa non li dà e non si riesce a capire come è possibile che l'Europa dice di no però ogni volta che senti delle giornali ogni volta che senti le alte cariche dello stato non vi preoccupate già 400 miliardi li stanno stanziando per aiutare le imprese altri soldi li stanno stanziando per aiutare di qua per aiutare là e tutta sta gente dice ma com'è possibile prima c'erano i soldi nessuno adesso tutti c'hanno i soldi che avevo detto io in determinati video inizieranno con la pandemia i contagi incominceranno a macchia sembra sembravano se sembrano contagi pilotati in varie aree più strategiche una volta fatti questi contagi nelle aree più strategiche incominciano a sentirsi male le persone si sentono male le persone le mandano tutte negli ospedali gli ospedali si bloccano non riescono più a risolvere il problema delle accettazioni di tutte queste persone affette da coronavirus all'interno degli ospedali stessi incomincia a crollare la sanità la sanità incomincia a credere aiuto allo stato e partono i primi soldi servono soldi servono macchinari servono mascherine servono i tamponi serve questo serve quest'altro serve quest'altro in televisione si stanno vedendo una marea di dottori infermieri una marea di portantini che dice non ci hanno dato niente mascherine ce dobbiamo prendere noi oppure i tamponi li dobbiamo prendere non ci hanno fatto un tampone ci hanno fatto niente la stessa cosa che mi dissero anche altre persone dice guarda che noi stiamo a roma all'ospedale ma noi abbiamo le stesse attrezzature che ci avevamo prima non è che hanno modificato qualcosa o ci hanno dato delle cose più ci hanno dato solo dell'accortezza di mettere guanti e mascherina all'interno dei determinati reparti e basta ma che ci hanno dato delle tutte particolari delle maschere particolari adesso le stanno chiedendo e non si sa quando arriveranno perché hanno fatto questo perché così le persone si contagiavano sempre di più sembra una cosa strana è un'ipotesi questa ma intanto fai contagiare le persone scoppia l'epidemia sempre di più scoppia il sempre di più e incomincia a parlare oddio il contagio epidemia stiamo facendo del tutto per aiutare queste persone per salvare queste persone e nel frattempo crei il panico da tutte le parti la psicologia del terrore che la psicologia del terrore fa sì di stabilizzare da una parte la nazione ma dall'altra parte la rendi schiava perché te alla nazione gli dici dovete stare tutti a casa perché sennò vi prendete il coronavirus la gente giustamente ha fatto bene a stare a casa perché questo non è un virus naturale è un virus creato nei laboratori come hanno detto le radio le televisioni e i giornali e quindi è un virus che si attacca molto facilmente l'unica cosa che non si riesce a capire ma perché il virus solo sono presi i vecchietti che stavano all'interno dell'ospizio dove loro non possono uscire quelle sono case di cura dove non si può uscire e tutti questi vecchietti se sono ammalati tutti quanti punto interrogativo perché in alcuni paesi dove non avevano contatto con l'esterno perché erano solo quattro gatti su sto paese com'è che se sono contagiati non si riesce a capire neanche questo com'è che alcune persone che praticamente stavano tutte in altitalia quando stavano parlando in televisione che dovevano tutti stare dentro casa all'improvviso hanno fatto aprire gli aeroporti i porti e le stazioni ferroviarie e hanno fatto sì che tutti quelli che stavano in altitalia nelle zone dove c'erano dove c'era l'inizio dei vari contatti che hanno fatti tutti scendere al centro italia nella bassa italia non ve lo siete chiesti perché tanto semplice perché se io faccio spostare la massa con determinati contagi anche lievi la massa la sposta al centro italia e alla bassa italia queste persone automaticamente contaggeranno altre persone e avviene il panico no in una determinata regione il panico avviene in tutte le regioni d'italia e tutte le regioni d'italia cominceranno a chiedere soldi perché giustamente se chiudi tutto crena catastrofe blocchi tutto e adesso in qualche modo bisogna risolvere allora che cosa hanno pensato bene a tavolino gli alti vertici europei come qualcuno ha detto gli illuminati della massoneria europea quelli sono milionari ricchi sfondati loro che gliene frega se per un mese di un mese o tre mesi chiudono i negozi e cavolo che ne frega quelli là vanno su internet devo comprare questo e arrivano le cose a casa come è possibile che le altre società di tutte le altre parti del mondo hanno ugualmente lavorato magari con le consegne un po in ritardo ma hanno ugualmente lavorato in tutte le varie parti del mondo perché le mascherine alcuni amici miei l'hanno acquistate tutte su determinati social e venivano dall'altra parte del mondo venivano queste mascherine l'italia non trovano le mascherine non se riusciva a trovare nessuna parte delle mascherine adesso le farmacie va a comprare la mascherina costa 15 euro 20 euro a secondo che tipo di mascherina devi acquistare c'è qualcosa pure lì d'è strano adesso un'altra cosa ancora come è possibile che prima i mutui non venivano dati e c'era una crisi perché le banche non potevano dare soldi alle persone alle imprese perché non davano non avevano le garanzie le imprese per poter prendere i mutui o prestiti e adesso basta che vai in banca ecco c'ho la partita iva ecco i soldi pom 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 perché perché sanno che gli interessi che vengono dati a queste imprese dopo si accumuleranno e se te che hai il prestito dei 25.000 euro, faccio un esempio te lo devi restituire in 10 anni te devi dare interessi e loro guadagnano non è che lo Stato ha detto io vedo i soldi in prestito e poi voi ce li date un po' alla volta senza avere nessun tipo di commissione di spese oppure di percentuale di interessi sul prestito no, ci stanno gli interessi sul prestito quante persone gli accetteranno i prestiti quante persone non gli accetteranno i prestiti quante persone verranno aiutate quante persone non verranno aiutate questo non si sa io dopo che ho seguito la vicenda delle torri gemelle ho detto c'è qualcosa che non quadra cioè bucare la sicurezza nazionale americana può succedere ma un aereo due aerei tre aerei quattro aerei mi pare un po' troppo e non accorgersi che i radar da terra i radar satellitari quando con l'aereo ha dei sistemi gps per la geolocalizzazione se l'aereo deve andare dritto per questa linea di volo e a un certo punto l'aereo se ne va per i fatti suoi automaticamente la torre la terra scusate queste persone che mi rimettono sempre queste frequenze fortissime sulla gola la linea di volo automaticamente viene si modifica il tragitto dell'aereo si modifica e automaticamente i controllori da terra chiamano immediatamente l'aereo e gli dicono dentro l'aereo guarda perché vi siete spostati perché state andando totalmente in un'altra direzione perché è normale questo addirittura adesso sui pullman hanno messo i sistemi gps che se il pullman si ferma per un motivo cambia la strada per un motivo noi con i telefonini possiamo vedere dove sta il pullman in quel momento gli aerei americani ovviamente si sono spostati ma nessuno ha pensato che c'era qualcosa che non quadrava e non credo che le tecnologie americane le alte tecnologie americane non si sono accorti di questi spostamenti di questi cambiamenti e nessuno ha visto quello che stava accadendo in tempo reale addirittura le persone dentro l'aereo hanno fatto le telefonate hanno chiamato i parenti ci hanno dirottato chiamate le persone trovateci un aiuto i caccia sono partiti dalle basi mezz'ora dopo i caccia militari per intervenire per gli aerei degli attentati delle dori gemelle in Italia scoppia la pandemia in Cina cominciano a dire scoppiata la pandemia se stanno ammalando tantissime persone sta succedendo un casino e nel frattempo che succedeva questo le persone da alcune parti della Cina si spostavano e venivano in Italia e gli italiani andavano in Cina e se in quelle parti c'erano dei spostamenti in continuazione tramite le navi e tramite gli aerei ma nessuno ha pensato di bloccare tutto nessuno ha pensato di bloccare tutto ma guarda che strano a un certo punto in Italia la seconda nazione a livello mondiale ad avere una marea di infetti ma com'è possibile? se gli infetti stanno tutti in un punto com'è che in questo punto si incominciano a sfarpagliare da tutte le parti? ah perché la gente cammina la gente dovrebbe stare a casa la gente non esegue gli ordini che abbiamo emanato no! perché gli ordini che sono stati emanati per bloccare la gente dentro casa sono stati dati 15 giorni 20 giorni 25 giorni dopo e già le persone si erano sparpagliate in tutta l'Alta Italia e quando hanno incominciato a dire che avrebbero bloccato i voli avrebbero bloccato gli aerei avrebbero bloccato praticamente i porti per far scendere la gente al centro Italia al basso Italia lì sono tutti partiti addirittura c'erano tutti i filmati i biglietti li hanno fatti sui treni lì dovevi bloccare i treni dovevi bloccare le navi dovevi bloccare le aeree e dire voi non potete partire dovete rimanere in quarantena prima di partire e invece li hanno fatti partire tutti quelli sono arrivati al centro Italia e al basso Italia se sono infettati tutti la cosa che non si riesce a capire perché in alcuni paesi dove nessuno è entrato nessuno è uscito se sono infettati ugualmente questa è un'altra cosa un mistero in alcune cliniche in alcuni spizzi dove lì non entra non esce nessuno se sono infettate delle persone anziane e non si riesce a capire per quale motivo metto il punto interrogativo qui non si riesce a capire come è stato possibile allora adesso noi dobbiamo un attimo capire la strategia della massoneria degli illuminati delle agenzie deviate e sovraistituzionali come stanno gestendo la mole di appalti e subappalti che verranno dati dallo Stato a determinati tipi di società e chi gestirà questi determinati tipi di appalti perché qui si parla 3 miliardi di mascherine 700 respiratori 800 respiratori si parla di un miliardo di guanti cioè cifre stratosferiche addirittura nel mondo non c'è una società che è in grado di gestire la fabbrica è in grado di gestire una mole di produzione di queste mascherine ma tutti gli ospedali del mondo ma come hanno fatto prima non si mettevano le mascherine in tutti gli ospedali del mondo i guanti in tutti gli ospedali del mondo non si mettevano prima ma come i supermercati prima la pandemia c'è stavano gli scatoloni pieni dei guanti adesso non si darà più un guanto non si darà più niente però se vai su internet il civile acquista la mascherina lo stato non può andare nella fabbrica che dice mi servono queste mascherine ma quante sarte ci stanno in Italia prendono le sarte gli portano loro il prodotto ti do il tessuto montami le mascherine e ogni regione avrà 50 100 1000 10.000 sarte che lavoreranno per lo stato e per fare praticamente queste benedette mascherine no le mascherine devono venire da fuori da lì in 62 dall'India dal Pakistan dalla Cina in 62 dalla Polonia da tutte le altre parti del mondo non si riesce a capire un'altra cosa che non si riesce a capire per quale motivo mi tieni chiuso i negozi che potrebbero vendere le mascherine me lasci quattro supermercati aperti ma si quattro supermercati ma dove vanno a prendere queste mascherine ah ma adesso le faremo dare a tutti quanti alle farmacie a tutte le farmacie in Italia avranno queste mascherine io sono andato in farmacia e non ce le avevano le mascherine sono andato dall'altra parte non ce le avevano le mascherine le trovi tramite internet su Roma però non ti puoi spostare da casa per andare a prendere le mascherine allora metti una cambia una legge fai dare un permesso che per le esigenze delle protezioni per le persone guanti mascherine tute e d'occhiali io posso uscire da casa per andare a prendere questi prodotti che servono per disinfettare la casa per disinfettare le mani e per poter uscire da casa con delle protezioni non che se io esco da casa devo andare al supermercato quello che me sta vicino casa e non posso fare nient'altro perché sennò c'è il problema del contagio ma se io vado al supermercato quello sotto casa e vado al supermercato a 100 mani di distanza che cambia che potresti trasmettere il contagio all'altro supermercato lo sapete a Roma quanti supermercati ci stanno attaccati tra 500 metri uno dall'altro ci sono alcune zone che addirittura ci hanno 20-30 supermercati tutti attaccati quindi quindi le persone devono riuscire a trovare queste mascherine devono riuscire a trovare lo spirito se non c'è in quel supermercato mi sposto in un altro supermercato per trovare lo spirito si telefonano tra supermercati e dicono guardate questi prodotti noi non ce li abbiamo però potete acquistare gli altri prodotti all'altra nostra sede o se no li ordinano attraverso il supermercato li fanno arrivare direttamente al supermercato e invece non si capisce perché questo non è stato possibile oppure tante persone hanno fatto la spesa online che è una cosa giusta questa e gli sono arrivate praticamente poi la spesa cioè arrivata praticamente a queste persone a casa che è una cosa molto carina è stata fatta perché se sei una persona anziana non ti puoi spostare fai la spesa online e la spesa ti arriva e questo è pure giusto adesso stanno chiedendo alcune altre cariche dello stato di mettere le telecamere intelligenti da tutte le parti perché la tecnologia 5G ormai è attiva e è facilissimo attraverso la corrente elettrica delle onde convogliate inserire un semplice dispositivo per farlo interlacciare con la rete elettrica e la rete elettrica fa sì di essere una rete nazionale che all'interno ha la banda di frequenza per interlacciare le onde convogliate che servono per i ripetitori del 5G questo è uno dei modi per far trasmettere il segnale in tutte le parti d'Italia senza utilizzare un cavo vero e proprio io ho il lampione sul lampione metto questo ripetitore il ripetitore praticamente capta estrapola decodifica le frequenze dalla corrente elettrica le frequenze entrano in questo convertitore e questo convertitore emana il segnale in ricezione e trasmissione attraverso il sistema della rete wifi 5G non confondiamo la rete dati che è quella che noi abbiamo sui telefonini tra la rete di trasmissione dati wifi la rete di trasmissione dati wifi ha lo stesso del 5G ha lo stesso identico funzionamento della rete wifi di casa per questo servono più antenne per amplificare il segnale in determinate aree geografiche a parte che poi gli serve la geolocalizzazione dei puntatori attraverso la trigonometria dei sistemi delle antenne del 5G per vedere la geolocalizzazione esatta del punto dove la persona si sta praticamente collegando al 5G perché i futuri droni militari che opereranno nel territorio nazionale italiano sembra il film di Robocop oppure sembra il film Terminator le forze dell'ordine le forze militari avranno l'usilio di avere robot radiopilotati che potranno essere gestiti come dei droni spia militari per operare nel territorio nazionale italiano solo che gli serviva una rete dati autonoma con banda militare per operare nel territorio cioè praticamente io sto all'interno di un locale vi faccio un esempio esco fuori da questo locale vado in un parcheggio il drone a 500 metri di altezza riprende con delle telecamere termiche tutto quello che succede e ascolta tutto quello che succede a distanze molto elevate il drone dà la geolocalizzazione e da il punto di incontro di queste persone e fa intervenire praticamente le persone forze dell'ordine è un ausilio in più invece di utilizzare gli elicotteri possono utilizzare i droni e radio pilotarli in tutti i posti dove loro vogliono per controllare non so le spiagge per controllare i boschi per controllare qualunque tipo di zona o di luogo questo è una cosa pure utile in un certo senso però servono soldi allora per far uscire i soldi attraverso questa pandemia adesso loro dicono servono una barca di soldi dobbiamo controllare tutti dobbiamo vedere le temperature della fronte di tutte le persone che entrano e escono dalle metropolitane che entrano e escono dalle aeroporti che entrano e escono dai porti che entrano e escono la restazione è questo sistema che già stanno utilizzando in Cina attraverso una rete di 15.000 antenne wifi del 5G che operano per il sistema di monitoraggio e spionaggio come quello che sta a Londra non so quante milla telecamere ci sono collegate alla rete a Londra che vengono monitorate attraverso i reparti operativi speciali nucleo operativi preposti per fare questo tipo di controllo in più stanno amplificando i sistemi di transazioni dei dati dei telefonini sia attraverso la rete del 5G 4G GPU Bluetooth geolocalizzatore GPS e tutti i sensori e i segnali che operano attraverso i telefonini di ultima generazione i telefonini di ultima generazione hanno talmente tanti sensori che da soli già danno una un sistema di analisi molto dettagliato di tutto quello che ci avviene intorno in tempo reale addirittura nei miei video che io avevo fatto nel 2001 2002 2003 già avevo detto che esistevano queste tecnologie solo che venivano utilizzate solo per sistemi avanzati militari e non per semplici reparti operativi o per semplici civili invece adesso praticamente lo Stato italiano ha fatto uscire fuori questa tecnologia che ha segretato questa tecnologia per far sì che poteva essere praticamente utilizzata anche per scopi militari ma nello stesso tempo per la sicurezza nazionale praticamente il rilevatore bluetooth e i sensori che rilevano i nostri bluetooth si attivano automaticamente al wifi alla geolocalizzazione gps e a tutti i sensori che stanno all'interno anche il giroscopio che sta all'interno del telefonino attivando il bluetooth loro sanno che a una distanza il bluetooth arriva fa conto fino a 5 metri 10 metri da un individuo quindi loro sanno che se io ho una frequenza a 10 metri di 1 milliwatt vi faccio un esempio a 5 metri ho 5 milliwatt a 1 metro ho 9 milliwatt di ricezione quindi vuol dire che la persona sta un metro dal mio dispositivo allora che fanno loro io cammino col telefono si avvicina una persona il rilevatore indica che c'è una persona che si sta avvicinando e automaticamente manda dei segnali per avvisare la persona di stare attenti che c'è una persona con questo dispositivo addosso oppure che è una persona in quarantena una persona che ha problemi o è malato dei coronavirus la tecnologia serve sì per aiutare anche le persone ma nello stesso tempo ci sarà uno spionaggio totale della popolazione attraverso l'interazione dei nostri dispositivi radiomobili in più un'altra cosa che tutte queste frequenze che ci vengono sparate addosso non è che fanno proprio bene creano tumori eschimi cerebrali trombosi neurismi eccetera 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 molte persone hanno detto che il 5G che ha causato il coronavirus non è così assolutamente non è così il 5G potrebbe solamente in determinate aree amplificare e destabilizzare determinate frequenze armoniche del nostro corpo che servono per far rigenerare durante la notte le nostre cellule il nostro corpo e alcune persone che magari sono elettrosensibili o alcune persone che definite target individuals che potrebbero rilevare questi campi magnetici e questi disturbi è per loro un altro sistema di debilitazione attraverso dei malessere multipli che si sommano sul corpo dell'individuo però dire che il 5G ha causato il coronavirus non è così poi le frequenze del 5G vengono captate sul nostro corpo attraverso le particelle di metallo del nanoparticolato che noi respiriamo passa attraverso i polmoni e va in circolo nel nostro corpo oppure il nanoparticolato che viene emesso dai metalli delle scie chimiche il nanoparticolato che viene emesso dai vaccini e tante altre situazioni che immettono a livello liquido o a livello ferroso questi metalli che fanno diventare il nostro corpo delle antenne umane radiopilotate è vero che con le armi ad energie dirette i target individu alzano delle fortissime patologie dovute a questi attacchi con armi satellitari sparate sul corpo ma dire che tutte le persone che si sono infettate nel coronavirus vengono attaccate con la tecnologia 5G o con la tecnologia armi ad energie diretta non le convogliate bisogna adesso fare un'analisi un po' più dettagliata un po' più tecnica e bisognerebbe analizzare le persone che stanno praticamente negli ospedali e vedere se sul loro corpo vengono sparate veramente le armi psicotroniche o le armi neuroniche o le armi infrasoniche o le armi biofotoniche per capire microonde scalare millimetri per capire se veramente la persona è attaccata a questi sistemi perché il 5G direttamente crea danno alla persona nel lungo andare cioè io vengo sto all'interno di una stanza dove c'è il 5G non è che immediatamente si creano determinate patologie gravissime ma stando permanentemente all'interno di quella stanza per giorni lì incomincio incominciano ad avere le persone delle patologie molto gravi quindi cari amici la situazione è questa a molti stati e anche allo stati italiano gli servivano i soldi servono i soldi tanti soldi tanti soldi per le tecnologie militari ultimamente l'economia delle banche era crollata le economie l'economia a livello azionistica le azioni a livello mondiale stavano crollando sempre di più adesso gli illuminati e la massoneria e lo stato super istituzionale sa perfettamente bene quale sono le società che prenderanno determinati tipi di appalti governativi ma non solo in Italia anche in tutte le altre parti del mondo vi faccio un esempio se c'è una società che è quotata in borsa e crea il prodotto per le mani quelle borse automaticamente le quotazioni in borsa di quella società automaticamente quando verranno firmati gli appalti con lo stato e quella società verrà indicata come la società che è un'appaltatrice dell'appalto dei liquidi per le mani disinfettanti per tutti gli ospedali in Italia vuol dire che quella società andrà pum alle stelle a livello azionistico perché incasserà talmente tanti soldi e le azioni aumenteranno di capitale eppure la società aumenterà di capitale e quindi loro sanno le strategie tattiche quale azioni acquistare in quale modo acquistare queste azioni e far sì di arricchirsi sempre di più se c'è una società faccio un esempio che fa le mascherine e sanno perfettamente che verrà fatto un ordine mirato dall'Italia 3 miliardi di mascherine a quella società loro sanno che quella società incasserà per un breve periodo di tempo soldi appalate perché 3 miliardi di mascherine ma quanto costa la mascherina? 1 euro? 2 euro? 5 euro? 10 euro? La mascherina? Per 3 miliardi sono cifre stratosferiche e quindi loro lo sanno e immediatamente spostano i loro capitali da un gruppo azionistico a un altro gruppo azionistico e a questo gruppo azionistico si dedica acquista tutte le azioni di quella società prendite il cuoto di quella società perché così loro incassano tutti questi tipi di soldi tutti questi soldi adesso c'è la vendita delle tecnologie tecnologie farmaceutiche tecnologie ospedaliere tutti i soldi che stanno dando a fondo perduto per la ricerca per il vaccino del coronavirus tutti i soldi che stanno dando per trovare delle cure palliative ovviamente che possano perlomeno curare la vittima con determinati tipi di farmaci senza utilizzare direttamente un vaccino vero e proprio e escono fuori una barca dei soldi tutti questi nuovi ospedali che stanno creando ospedali da campo ospedali nuovi ospedali creati con strutture particolari all'interno delle fiere all'interno di non lo so alberghi eccetera eccetera chiliniche private eccetera eccetera strutture create per la terapia intensiva per il coronavirus e quello c'è un giro dei soldi dei miliardi che non finiscono più io tutto questo l'avevo detto come è iniziata la prima pandemia infatti il video quando io avevo fatto questo video se parla di tanto tempo fa avevo detto che il coronavirus era un virus di stato e che era questo questo virus un presunto attacco chimico batteriologico un presunto attacco chimico batteriologico non un attacco chimico batteriologico capite bene un presunto attacco chimico batteriologico e che qualcuno aveva programmato i contagi in tutto il mondo e ancora i contagi dovevano arrivare in tutto il mondo si sentiva parlare dei contagi in Cina e qualche contagio in Italia qualche contagio piccolo in Europa e io già avevo detto come andavo a finire perché le strategie tattiche di queste persone per incassare miliardi sono sempre le stesse fanno sempre le stesse le antiche cose e io ho detto faranno come le torri gemelle prima fanno buttaggiù le torri gemelle poi creano il panico del terrorismo a livello mondiale prima fanno contagiare tutti poi fanno morire un sacco di persone poi creano il panico per il contagio mondiale e dopo incominciano a dire che non c'erano le tecnologie per prevedere e che servivano più persone operatori davanti alle basi militari per prevedere gli attentati terroristici effettuati con il sabotaggio degli aerei in Italia c'è ci sono pochi operatori per la salvaguardia delle terapie intensive per la cura preventiva polmonare per la salvaguardia dei cittadini italiani per il contagio diretto del coronavirus il giochetto è uguale è sempre lo stesso adesso stanno diminuendo i contagiati ma per un periodo hanno fatto aumentare le morti quella si chiamava la zona nera c'è un video che ho fatto adesso stanno diminuendo le morti delle persone e stanno diminuendo parecchi i contagiati e adesso però c'è il problema che il popolo sta incominciando ad arrabbiarsi incavolarsi noi stiamo dentro casa non facciamo niente stiamo rinclusi dentro casa va bene ma adesso chi ci dà i soldi come facciamo a mangiare e lì fanno sì di far vedere alle radio alle televisioni la gente che va sotto le banche che spacca tutto la gente che va davanti nelle caserme non abbiamo più da mangiare aiutateci 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 perché questo perché così lo Stato dice servono i soldi per la prevenzione del coronavirus servono i soldi per il vaccino servono i soldi per i farmaci servono i soldi per le nuove strutture sanitarie servono i soldi per aiutare le famiglie disagiate servono i soldi per le mascherine servono i soldi per i guanti servono i soldi per aiutare le imprese servono i soldi per aiutare i commercianti servono i soldi vedete quante scuse adesso che ci hanno servono soldi servono soldi servono soldi servono soldi servono soldi e chi ci dice che questi 800 miliardi verranno dati veramente alle persone per l'emergenza coronavirus chi ci dice che qualcuno non utilizzi questi soldi per propri scopi di guadagno e per incrementare la ricchezza di determinate persone deviate che operano attraverso la sopra istituzione dello Stato chi gestisce tutti questi questi appalti chi crea queste società e chi sta facendo convertire le società per le mascherine per i saponi per determinati tipi di eventuali macini chi amministra amministra capito chi amministra amministra da mangiare capito bene allora qualcuno ha detto all'inizio una semplice influenza vi preoccupate che vi mettete a fare le mascherine e tutti si contagiavano non vi preoccupate il solito fake che stanno mettendo in giro guardate che qui c'è qualcosa di strano questo non è il solito fake perché non si è mai sentito che tutte le televisioni del mondo parlano di questo avvenimento che è successo in Cina qui c'è qualcosa di grave sotto ma no ma no non succederà niente addirittura una persona mi ha detto a me dice ah te dici così perché te vedi tutto complotto tutto complotto non vedo complotto conosco le bestie quanto guadagnano facendo gli esperimenti militari o paramilitari sui target individual sulle vittime del controllo mentale io essendo una vittima del controllo mentale sono vent'anni che subisco questi attacchi queste frequenze queste manipolazioni e lo Stato sta pagando per fare queste sperimentazioni sulle persone quindi non è possibile che nessuno veda e che tutti sementano che sono indagini preventive per la sicurezza dello Stato ma indagini preventive di che? ma di che cosa indagini preventive? minacci lavaggi del cervello torture manipolazioni fisiche e psicologiche poi se vai a portare la denuncia il giorno dopo ti torturano per una settimana intera e ti dicono che non ti dovi permettere di portare la denuncia contro di loro e questa che è schizofrenia non mi pare che la schizofrenia ti parla militare in testa e ti dice non ti permette di portare le denunce contro di noi ma dire che sanno che più persone portano le denunce per gli attacchi terroristici effettuati con armi spaziali armi ad energia diretta satellitare e più nei tribunali si riempiono di queste denunce ma le denunce devono essere fatte tecniche plausibili e sintetiche una pagina due pagine non denunce con visto di varie vittime 60 pagine 70 pagine non devono fare le denunce così la denuncia deve essere semplice e cautelativa deve denunciare non persone deve denunciare una tecnologia che voi siete spiati da questo sistema di spionaggio radio satellitare che siete spiati attraverso i sistemi telematici i computer i telefonini e che siete controllati attraverso una tecnologia sopra istituzionale non ben definita oppure tecnologia psicotronica tecnologia che interagisce con i centri nervosi del nostro cervello e basta perché così noi non passiamo per passi per malati di mente ma qui c'è gente che si presentano 18 volte dall'avvocato e gli vanno a portare le fotografie delle macchine che vedono per strada gli vanno a portare le targhe di quelli che vedono per strada vanno nei posti nei supermercati incontrano il vicino di casa il vicino di casa che mi è venuto che mi ha seguito dentro il supermercato ma se il vicino di casa la spesa la deve fare il vicino di casa o non la deve fare quindi molte persone si suggestionano e si creano delle loro paranoie e gli mettono nel loro cervello delle paranoie che in realtà non esistono quando vi mettono queste paranoie voi fate finta di niente cercate di passare avanti perché tanto la simulazione attraverso la manipolazione cerebrale è creare proprio la paura il terrore alle persone che sicuramente lo stanno creando anche in questo momento sui target individual sulle vittime del controllo mentale anche per la pandemia quindi dobbiamo restare uniti e capire quello che succede perché loro fanno delle strategie tattiche ma i programmi sono quasi sempre gli stessi infatti quando ho iniziato i miei primi video di che cosa parlavo che venivano attaccate le persone con questi sistemi di arma per scopi di sperimentazione con l'auto di frequenze e di effetti collaterali sull'individuo che rileva queste tecnologie di manipolazione mentale no non è così è il più parente l'amministratore sui zingari sotto casa sulle galline sui piccioni sui cari che abbagliano guardate che non è così loro lo fanno gli alieni loro lo fanno apposta per farvi credere che sono altre cose altre persone per farvi sembrare pazzi e malatine e far perdere subito la vostra credibilità ah no 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 io sono sicuro sono sicuro e questo e questo e quest'altro e io gli dico non fate questi tipi di denuncia se no mi mettono subito in TSO mi fanno subito una benizia psichiatrica ah no 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 ma te che ne sai te non sei esperto come sono esperta io e le persone vanno tutte in TSO li chiudono entri le cliniche li imbobardano con le psicofarmaci perché io quando gli dico le cose loro non sentono se che lo tessi è superiore e fatalità le rinchiudono a tutti quanti invece le persone che mi hanno ascoltato che mi hanno seguito e hanno detto delle cose sì che potevano essere dette all'interno degli ospedali all'interno dei contoscorsi davanti allo psicologo davanti allo psichiatra che hanno fatto sì di in un certo senso aiutare la loro vita cioè se te dici che viene attaccato con le armi ad energie dirette ad onde convogliate con queste tecnologie e non ti credono e ti dicono tutti no sei impazzo sei malato demente e ti devi far curare allora se sono pazzo e malato demente e mi devo far curare allora mi devi dare la pensione di invalidità e se non posso andare a lavorare non posso prendere la macchina mi devi dare l'accompagno oppure mi devi dare l'inagibilità al lavoro e mi devi dare immediatamente la pensione la pensione perché o sono attaccato con le armi ad energie dirette e gli salari di spia o sono malato demente allora se sono malato demente mi devi dare tutto quello che per la legge deve essere data da una persona che ha questi disturbi perché loro li definiscono disturbi attacchi terroristici militari effettuati con i satelli di spia questo non lo dicono loro perché è segretata la tecnologia addirittura Ido a terra aveva fatto determinati tipi di esperimenti poi l'hanno bloccati perché non servivano più quell'altro ha creato il sistema dell'MK Ultra del Monarch poi all'improvviso non serviva più hanno smesso di fare questi test non è che hanno smesso di fare questi test i test funzionavano perfettamente il controllo mentale funzionava perfettamente e hanno segretato tutto in modo che nessuno sapeva più quello che loro stavano facendo di sperimentazione con l'auto con queste tecnologie e con queste armi ma com'è che tutti adesso vogliono creare l'interforce spaziale l'interforce geospaziale perché si vogliono tutti proteggere da chi? da giga robò? no si vogliono tutti quanti proteggere da chi? da Venus? no si vogliono tutti proteggere dal controspionaggio di eventuali stati con tecnologie satellitari con armamenti satellitari o si vogliono proteggere dal sistema di spionaggio che viene utilizzato attraverso le reti di controllo che una di queste reti di controllo una dei più famosi al mondo è Echelon da queste reti di controllo in vari strati dell'atmosfera perché ci sono satelliti in orbita bassa in orbita media in orbita alta di solito i satelliti spiastano in orbita bassa geostazionari e controllano sempre un'intera area geografica attraverso questi sistemi ovviamente la tecnologia è molto costosa per proteggerci da questa tecnologia ci vogliono un sacco di soldi e non è possibile molte vittime mi contattano e mi dicono a me mi hanno detto che si trova su internet una cosetta con 30 euro che io risolvo il problema ma no no non esistono schermature che possono proteggere le persone definitivamente con pochi soldi non esiste niente a pochi soldi le tecnologie costano le telegamma termica costa i misuratori dei campi elettromagnetici costano l'analizzatore di spettro costano le antenne costano le schermature e le gambe di farata costano non vi fate un pavocchiare da persone che mi dicono io ho risolto tutto ho preso la carta stagnola e l'ho risolto quell'altra prende la vitamina C quell'altra prende l'aspirina quell'altra prende l'alga un'altra è venuta e ha detto ah io sto facendo la cura con una specie di argilla ah non ho più dolori non ho più niente dopo qualche mese mi manda tutte le fotografie e ho detto ma che è successo signore no no l'argilla non fa niente mi stanno a bruciare mi stanno a attaccare sempre più sempre più forte io ho detto signora questi sono solo dei pagliativi che voi credete che vi aiutano a risolvere il problema ma in realtà non vi aiutano perché se io vi sparo con una pistola il proiettile non è che se prendi la gilla o fai lo yoga o fai il mantra o te ne vai a fare la passeggiata per il uso o la spiaggia il proiettile devia oppure il proiettile vi rimbalza addosso no e queste sono armi che sparano dai satelliti sul vostro corpo e quindi non le puoi far imbalzare quello yoga col mantra quell'altra che voleva fare cosa voleva fare la copuntura non ce la fai a bloccarle perché vengono create proprio come un'arma di energia direttamente coinvolgata quindi cari amici preparatevi che adesso ci sarà una catastrofe dei soldi che usciranno dallo stato italiano che non so dove prenderanno e dove stamperanno questi soldi perché hanno detto che tutte le persone che praticamente hanno subito dei gravi dei gravi problemi attraverso la chiusura di questi negozi attraverso la chiusura delle loro attività dovranno essere praticamente tutti quanti risarciti di questo denaro che loro praticamente non possono più avere perché lo stato ha chiuso le loro attività ma lo stato invece da tagli questi soldi e fargli prendere mutua sti poveracci per indebitarli ancora di più ma perché non blocca due mesi cioè abbona alle società due mesi di IMS abbiamo bloccato che ne so per due mesi le società allora per quei due mesi lo stato non richiede più l'IMMS hai un operaio invece da pagare che ne so 20-30 euro 100 euro al mese quelle 200 euro al mese che dovrebbero essere pagate non vengono pagate vengono abbonate e vengono date come una sorta di bonus dallo stato oppure c'è da pagare la tassa della plastica per due mesi le aziende queste norme quanto che costa sta tassa della plastica non glielo fanno pagare serve la tassa dell'immondizia per due mesi non la pagano perché quelli non hanno consumato non che gli fa arrivare l'immondizia annua e quelli dicono io per due mesi non ho consumato niente hanno bloccato lo stato cioè lo stato ha bloccato tutto quanto quindi la gente dovrebbe ragionare in un determinato modo io sto sempre preparando la conferenza nazionale complotto di stato che va proprio a cecio per questi complotti nazionali e internazionali per questi avvenimenti nazionali e internazionali e sto cercando di aiutare sempre le vittime del controllo mentale che mi possono contattare direttamente su un nuovo account come ho detto prima Emiliano Babilonia Italia che è un account pubblico su Facebook oppure mi possono contattare anche tramite Messenger Emiliano Babilonia Italia su Messenger oppure mi possono contattare tramite mail vittime del controllo rurale che ho cero gmail.com contattatemi per cose serie non mi contattate perché oddio ho un piccolo rumoretto dentro l'orecchio ho un piccolo bufene ieri mi si è appannata la vista per un minuto oddio potrei essere attaccato a queste tecnologie non fate questo qui contattatemi per cose serie oppure se avete delle testimonianze importanti o interviste testimonianza importanti che volete fare su una mia radio web contattatemi ci mettiamo d'accordo e facciamo la registrazione tramite web sto preparando un sito solo per l'associazione per il gruppo di supporto ed aiuto delle vittime del controllo mentale così le persone quando entrano hanno solo i dati tecnici necessari per fare tutti gli eventuali le eventuali iscrizioni contatti numero di telefono email newsletter per poter rimanere sempre in contatto con noi e per poter praticamente interagire direttamente con noi e poi metteremo le cose essenziali degli eventi o delle lettere o delle cose che stiamo facendo direttamente all'interno del sito perché così il centro italiano ricerche ha il suo sito ufficiale dove lì ci saranno tutti tutti i settori tecnici e scientifici e di ricerca a 360 gradi però io ne dovevo fare uno più specifico perché se no delle persone anziane non sanno come fare non sanno come entrare con l'abc per poter eseguire determinate iscrizioni o determinati tipi di passaggi molto semplificati così le persone possono entrare immediatamente in contatto con noi perché il sito è molto professionale quindi ci sono più passaggi per poter entrare a contattare o far parte dei nostri gruppi direttamente attraverso l'escrizione diretta sia sul sito che sia tramite l'associazione del gruppo vittime risolve lui i vostri problemi lui automaticamente mi può contattare a me e dire domani ti contatterà una signora che vuole parlare direttamente con te per avere determinate delucidazioni su quello che gli sta accadendo come finisce la pandemia ci sarà la conferenza nazionale complotto di stato perché noi dobbiamo parlare tutto il giorno dalla mattina fino alla sera di domenica di questi avvenimenti che stanno accadendo nella nazione italiana si parlerà del coronavirus si parlerà come le banche muoveranno tutti questi soldi si parlerà di aiuti umanitari si parlerà della strage diustica come la guerra elettronica ha interagito con determinate depistazioni di prove nelle indagini effettuate per la strage diustica si parlerà dell'immigrazione clandestina tutto quello che gira dietro l'immigrazione clandestina di soldi e denaro si parlerà del controllo mentale di come i target individuals vivono determinate situazioni surreali e molte volte non vengono creduti attraverso questi attacchi e manipolazioni che vengono fatte anche ai familiari dei target individuals i target persone mirate dal sistema radio deviato che opera per le interazioni e le manipolazioni dei nostri centri nervosi quindi cari amici iscrivetevi al mio canale angeli custodi mk ultitalia su youtube il mio secondo canale emiliano babilonia su youtube iscrivetevi sulla mia radio web emiliano babilonia spreaker oppure sulla mia seconda radio web emiliano babilonia mix cloud ho creato un gruppo su facebook siamo tutte cavie e poi c'è il cervello è scritto mk ultra rifid microchip in modo che voi vi potete scrivere direttamente oppure elettro ingegneria clandestina un altro gruppo che ho creato su facebook dove si parlerà del 5G e di tantissime altre tecnologie che verranno messe in funzione in questo periodo del coronavirus dicono per indagini preventive io dico che per lo spionaggio totale della popolazione italiana e voglio ricordarvi un'altra cosa dopo questo questa pandemia non sarà più la stessa cosa in italia nel mondo non sarà più la stessa cosa perché le persone non hanno paura dell'influenza ma hanno paura di persone sopra istituzionali che sovvenzionano alcuni tipi di laboratori che creano questi virus geneticamente modificati o elaborati in laboratorio per creare proprio lo sterminio della popolazione a livello mondiale ma con determinate accortezze con determinati sistemi di sicurezza e con la prevenzione e con la polizia con la disinfestazione la disinfestazione delle mani mettendo le mascherine mettendo gli occhiali mettendo anche dei giacchettini in modo che quando voi arrivate a casa se viene qualcosa praticamente colpito dalla saliva di qualcuno dal respiro di qualcuno copriate il giacchettino lavate tutto lavate le mascherine lavate tutto gli occhiali lavate tutto e poi li potete ovviamente dopo sterilizzare tutto riutilizzare queste cose non uscite da casa perché questo non è un virus normale è un virus creato apposta per attaccare le persone specialmente le persone con determinate difese immunitarie cercate di rimanere uniti seguite anche i consigli di determinate persone che vengono detti ovviamente tramite le televisioni nazionali italiane e cercate di andare se avete i requisiti cercate di andare a fare tutti gli incartamenti o tutte le domande per prendere un eventuale sussidio dallo Stato perché lo Stato ha dei fondi e questi fondi servono proprio per salvare lo Stato perché in caso di calamità naturale in caso di epidemia o in caso di guerra lo Stato deve avere delle delle soluzioni deve avere delle dei depositi da qualche parte non è possibile che lo Stato c'è epidemia oddio non sappiamo come fare non abbiamo soldi non abbiamo niente non è possibile questa cosa e alcune società non è possibile che non ci hanno le assicurazioni che se succede una cosa del genere non hanno la possibilità di essere aiutati da questo tipo di assicurazione se io faccio l'infortuno sul lavoro l'infortuno del lavoro mi paga è possibile che la società c'è un'epidemia si infettano tutte le persone e lui paga nessuno la società crolla chiude la società non è possibile quindi cerchiamo di capire perfettamente come risolvere e come le strategie tattiche dello Stato sovra istituzionale stanno muovendosi ma tanto lo Stato sovra istituzionale si muoverà nel far dare gli appalti a chi dicono loro nel gestire il denaro e far dare il denaro a chi dicono loro e tutto questo ovviamente viene studiato bene a tavolino quindi un saluto a tutti cari amici da ricercatore Emiliano Babilonia seguitemi su tutti i canali da tutte le parti e chiedetemi l'amicizia sul mio nuovo account pubblico Emiliano Babilonia Italia un saluto a tutti amici un saluto a tutti